Pronto, qui a Auricchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine larghe a Punghielo numero due a passo. Attenda, prego. Eh, attenda. Stiamo alla festa da ballo. Ha chiesto due auto? Sì, signore. Allora, Belgio quattro in due minuti e Bari nove in quattro. Come? Bari nove mi ha detto questo a me? Ma chi è che parla? Radio taxi, signore. Dica pure.